A quanto si inalta? Siamo pronti? E ora? 1, 2, 3, 3 E ora va bene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 16, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 21, 28, 19, 21. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.